La mia presenza qui è estremamente interessante per noi, in nostro interesse, perché possiamo ottenere tutte le discussioni che vengono a l'AD e poi ottenere il meglio e trasferirlo all'attenzione dei parlamentari, perché eventualmente questo può influenzare le lezioni nazionali, la cooperazione regionale e vedere come possiamo lavorare meglio insieme. l'AD ha mostrato di essere una piattaforma eccellente per noi per lavorare insieme al dialogo con il mondo dell'Arabia e di più, e continueremo a investire in questo.